Anna benvenuta, sei pronta? Bene, sono contenta, da dove vieni? Io sono di Nabos, dove vorrei? Ah ok, va bene, fai di qua insomma dai, sei trappiantata a Reggio in sostanza. Senti Anna, questa idea è tua o te l'hanno un po' presentata? Poi ho trovato l'accompagnatore ad Anna. Bravissima, brava, quindi ti divertirai e tu all'idea volevi farlo insomma, bene, dai manca pochissimo lo sai? Bene, allora vai a divertirti dai, buon divertimento e goditi il lancio, ci vediamo su, ciao! Noi dobbiamo farlo, bisogna che non si spiego. Noi mi metti il banca qui eh, io mi metto in banca qui. Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come è andata? Benissimo.